Buongiorno dalla WebTV Studios, ci troviamo oggi alla Fiera di Roma dove c'è la quarantonissima edizione di Moacasa, un appuntamento annuale per noi romani, una mostra dedicata all'arredamento, al design della casa, accessori e altro. Quindi cominciamo insieme il nostro giro. Allora, buonasera, ci troviamo a Moacasa e mi trovo allo stand delle Gallerie delle Porte in compagnia di Elena. Buonasera Elena, che ci illustrerà adesso questo partito, sono tutte molto belle, in particolare anche questa, che è una tra le più belle. Allora, ci racconti un po' queste porte, queste hanno le particularità, se sono cose innovative per quest'anno, insomma raccontaci un pochino dei vostri lavori. Allora, noi come ditta veniamo da Ucraina, abbiamo tutti i tipi di porti, iniziando con quelle economiche, fino a quelle porte in massello. Quando riguarda questo modello, è un modello assolutamente in massello, con telai a bette listellare, il coprifilo in massello. Abbiamo una porta con bellecettura di frassino, laccata a sette mani, come dicono in Italia. Come dicevo, come prodotto veniamo da Ucraina, quindi noi su quanto riguarda il rover, i abetti oppure frassino ci abbiamo abbastanza, quindi con i prezzi, diciamo, siamo molto competitivi sul mercato italiano. E voi avete anche una, quindi sono da Ucraina, ma qui in Italia avete un laboratorio appoggiato a qualcuno? Sì, noi diciamo le porte le portiamo qua e la ferramenta viene messa a Roma, via Prenestino abbiamo il deposito. Avete anche una pagina Facebook? No, siccome siamo sul mercato da cinque mesi, stiamo adesso sistemando il sito e la pagina Facebook prossimamente. Ok, quindi troveremo a presto. E poi abbiamo tante porte in legno, massello, in pronta consegna, le trovate sempre al deposito di via Prenestina. Ok, allora grazie e allora in bocca al lupo per la vostra nuova attività. Grazie. Allora, buonasera, dalla UFTV Studios ci troviamo sempre a mo' a casa e mi trovo in compagnia di Alessandro. Salve Alessandro. Buongiorno. Allora, e ci racconti queste bellissime serrande, grazie a scomparsa, che sono veramente moderne e molto molto belle. Ci racconti un pochino, sto vedendo che ci sono anche diverse tipologie, ci spieghi un pochino tutto? Noi consideriamo due tipi di grata a scomparsa. Grata a scomparsa che può fare anche l'oscuramento, sono collegabili alla domotica, arriva giù, la grata si chiude automaticamente e poi regolare la quantità di luce che entra in casa. Altrimenti possiamo avere solo la grata a scomparsa, anche questa collegabile alla domotica, arriva giù e con un sistema meccanico automatico blocca la grata a terra. perciò tu puoi arrivare a casa con un solo tasto, aprire tutta casa o chiudere tutta casa. Se arrivano anche a lunghezze molto grandi, a 3,80 m di lunghezza è nulla grata. Ah beh, caspita, è parecchio. Dunque, qui puoi vedere con una vetrata al top minimal con profili di 2,8 cm e la nostra grata dual block, la bellezza di questa vetrata. chiusura automatica, ha un effetto quasi di brisolei, di frangisole, più che di grata, è più morbida, molto più bello di avere una grata davanti alla finestra. Arriva giù e si chiude. Quindi in automatico, da sola, fa tutto da sola. Sì, ok, è arrivata giù, è chiusa, io non devo andare con la chiave e aprire la grata. Questo è molto importante e comodo soprattutto. Ok, senti, dove vi possiamo trovare? Dove state? Dunque, noi siamo a Roma, a Via delle Livellule 82 o sul nostro sito outer.srl.it Ok, hai anche una pagina Facebook? Anche la pagina Facebook di Dual Block, la trovate con la pagina Facebook, le novità, le nuove immagini e tutti i nostri lavori. Ok, grazie mille e buona giornata. A te. Grazie mille e buona giornata. Grazie mille e buona giornata. Ciao a la Moa Casa e mi trovo in compagnia di Antonio, di Azeno Arte. Allora, questo stand è bellissimo, è uno dei quadri bellissimi, coloratissimo. Allora, raccontaci un po' quello che voi fate. Allora, noi realizziamo cornici, è un'attività dei nostri genitori e l'attività nasce nel 1969 e ha subito delle trasformazioni con il passare degli anni. Da semplice laboratorio di cornici è diventato anche una piccola galleria dove facciamo delle modifiche sulle stampe, sui poster, anche sulle immagini fotografiche che ci porta il cliente e poi cerchiamo di personalizzare, come in questi casi dove abbiamo fatto le varie lettering o le specchieri tipo Pollock o street art, elementi di street art che stanno andando adesso. Adesso per la maggiore, cosa è che richiedono adesso? Va molto la street art. Dicaci bene che cos'è questa street art, arte della strada? La strada dove ci sono degli artisti bravissimi che pubblicizzano le loro opere, possiamo vedere a Roma è pieno, ci sono delle zone a Tormarancia, Pigneto, pure la zona dove siamo noi, questi artisti che fanno queste opere utilizzando dei particolari che sono proprio dei particolari della strada. Va molto anche il New York che è sempre affascinante sia nella versione classica che nella versione magari un pochino più tradizionale e colorata e poi va molto il legno, il legno tantissimo, il legno intarziato e va molto. Allora, tu stai a Pigneto, dove possiamo trovare quindi? Allora, noi siamo al Pigneto in via Zenodossio dal 60 al 68 e lì c'è tutta l'esposizione, il laboratorio, venite a trovarci, ci fa piacere, ci prendiamo pure un buon caffè che abbiamo un bel bar di fronte. Ecco, perfetto, abbiamo tutto. Dove senti? Vi manca anche una pagina Facebook? Avete un sito? Abbiamo una pagina Facebook, il sito è www.zenoarte.com e... Veniamo sicuramente. Va bene. Grazie mille. Grazie a te. Grazie, ciao. Arrivederci. Allora, salve, dalla WebTV Studios ci troviamo alla Moa a casa e mi trovo in compagnia. di Stefano, salve Stefano. Salve a tutti. Della Michele S.R. Damenti, giusto? Sì, Michele S.R.L. Allora, raccontaci un po', sto vedendo, già qui c'è aria natalizia, anche una cosa quindi di festa molto bella, però voi fate anche altre cose, giusto? Sì, noi principalmente siamo partiti con fare caminetti, facciamo caminetti su misura, abbiamo un laboratorio Marmi e poi insieme a questo negozio abbiamo anche un negozio di oggettistica, a liste di nozze, articoli da regalo e addobbi natalizi, come potete vedere. In questo caso che ci stiamo avvicinando a Natale. Dove state? Dove vi troviamo? Noi siamo ad Aprilia, su Via Fontina, al chilometro 45 e 350. I vostri orari? Facciamo dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 19 e 30, direzione latina, non l'ho detto prima. Allora, perfetto. Avete anche una pagina di Facebook, siete presenti su qualche altro social? Sì, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo anche un sito dove si possono acquistare i prodotti. Quindi anche un acquisto online si può fare? Un acquisto online, esatto. Si chiama la Maison di Michelezzi.it dove potete vedere tutti i nostri prodotti che sono esposti e potete anche acquistarli. Ok, perfetto. Allora, ho detto che qui c'è l'area di Natale. Che cosa proponete per Natale 2015? Che cosa proponiamo? Beh, ci sono diverse soluzioni. Ad esempio questi Babbi Natale che si vedono, sono molto simpatici e graziosi e cantano. Poi, ecco, il classico albero. Sì, però dai colori un pochino diversi dal classico oro che abbiamo qua a nostro spalle. Sì, i nostri prodotti cerchiamo di differenziarci un pochettino. Insomma, ci sono delle diverse decorazioni un po' fuori dal comune. Infatti, perché voi quindi richiedono delle cose un po' particolari a voi, perché a me sono abituati che avete cose un po' particolari, sicuramente. Ci conoscono proprio per questo, sicuramente. Va bene, allora grazie mille, in bocca al lupo e a presto dalla WebTV Studios è tutto. Grazie a voi. Allora, buonasera dalla WebTV Studios, siamo sempre a mo' a casa. Mi trovo all'interno di uno stand particolare, bellissimo, la X-Lab. E mi trovo in compagnia di Fabrizio e di Marcello. E allora, che ci faranno vedere? Ci diranno un po' che cosa fate, dove voi possiamo anche trovare. Noi facciamo autoproduzione di articoli di design, lavoriamo a legno massello, produciamo quasi tutto, dal tavolo al complemento, a qualsiasi tipo di arredo in generale. Facciamo autoproduzione ecosostenibile. E vendiamo principalmente sul sito web che è designpertutti.com. Un sito abbastanza importante che racchiude un po' tutti i complementi di arredo, in più l'autoproduzione a marchio X-Lab. E collaboriamo con Marcello Ballardini per quanto riguarda le lampade musicali. Allora, sì, passiamo a queste meraviglie, diciamo, a queste lampade. Un'idea molto lunga, per me molto importante, che fa parte proprio della mia vita, nel senso che 15 anni fa ormai è uno strumento che ho conosciuto in Australia, che si chiama Digeridoo. Da lì nasce una passione viscerale verso questo strumento, che è uno strumento proprio del popolo aborigine australiano. E ho trascorso un anno intero a contatto con questo popolo, che mi hanno lasciato grandi tradizioni riguardo a questo strumento. E piano piano, tornando in Italia, ho continuato a suonare, ho cominciato a costruire strumenti Digeridoo in legno, fino ad arrivare poi anche un po' per necessità alla vetroresina, che è un materiale che rende lo strumento più dinamico, più leggero, quindi più facile nell'utilizzo, nel trasporto. E da lì poi, con il tempo, con la voglia di crescere, l'idea di creare, di dare qualcosa di più allo strumento. E quindi è nata anche la lampada, giocando con la trasparenza della vetroresina e poi con l'utilizzo di pigmenti, di ossidi, di colori, di tessuti, che hanno reso questa lampada un oggetto veramente unico nel design, nell'illuminazione e anche nel suono. Sì, veramente particolare. E lì, sono te che crei questi disegni, questi colori? Sì, non nasco come artista, come pittore, diciamo, quindi come vedete sono molto astratti tutti quanti come decorazioni, diciamo che nascono dall'esperienza, dal giocare con la materia, con il colore. Sono partito dalla resina e da lì poi, andando a giocare con il colore, capire come la resina reagisce con le diverse tipologie di colori e quindi è stato un susseguirsi di novità, di esperienze anche per me, vedere giorno dopo giorno diventare sempre più affascinanti anche per me questi strumenti. Certo, perché sono particolari, quindi però adesso chi le vede nascono come lampade, come un arredamento, però hanno anche... Oggi vengono molto apprezzate come lampade, oltre che come strumenti che fino all'anno scorso per me erano al 90% strumenti e 10% lampade. Oggi siamo qui al Moacasa per dargli questa nuova interpretazione dello strumento, quindi forse è diventato il contrario. Per me è sempre importante e molto curato il suono dello strumento, infatti sono tutti accordati, ognuno ha la sua nota, ognuno ha le sue caratteristiche nel suono, che mi piace spiegare al cliente con la speranza che anche il cliente che l'acquista come lampada comunque possa utilizzarla con assolutamente doppio uso. Illuminazione a led, quindi parliamo anche di alto livello come materiali. Quindi da questa lampada adesso vediamo come si trasforma in strumento musicale. La sentiamo anche. Certo. Sentiamo la lampada. Ascoltiamo la lampada. Ascoltiamo la lampada. Ok. Questa. Allora, quanto ci impiega a fare una lampada? Adesso hai preso molta esperienza, ormai vai un po' così da solo, però quanto ci si mette per poterla... Adesso siamo in tre i costruttori della lampada, cioè nasce un progetto che nasce da me, adesso mi sono avvalso di collaboratori validi, soprattutto nell'utilizzo di resine e nelle decorazioni, che mi aiutano molto. riusciamo ad essere molto più veloci nella produzione, riusciamo a produrre anche una lampada al giorno, quindi se parliamo sempre di pezzi artigianali e pezzi unici, quindi ci tengo a dirlo. Prima per me da solo per costruire una lampada ci mettevo tre giorni, perché hanno comunque dei tempi di stagionatura della resina da un momento all'altro che sono inevitabili, insomma. Quindi non parliamo di pezzi che vengono messi in produzione macchinariamente. Ognuno poi è a sé, giusto? Ognuno è a sé, ognuno nasce da uno stampo. Ogni stampo viene realizzato in gel coat e poi sullo stampo viene lavorato con il tessuto e con resina epossidica. Quindi la resina che viene arrotolata intorno allo stampo, poi c'è il distaccamento dello stampo e poi c'è tutto l'aperfezionamento nella ricerca della nota, nelle caratteristiche sonore, nell'inserimento del LED, quindi in tutta la preparazione dell'impianto elettrico e quindi la parte finale, quella della decorazione, scegliere in base alla scelta del cliente, perché diamo la possibilità anche di personalizzare la lampada e quindi nell'utilizzo di tessuti, di ossidi, di pigmenti, di vari stili di decorazione differente e quindi nella scelta della base, perché abbiamo la possibilità di avere queste con le basi in legno o in quell'altro modello con le basi incorporate, sempre fatte in resina. Insomma, sì, stiamo giocando un po' di più, anche sempre di più, sull'aspetto estetico del design di questa lampada. E poi personalizzare sempre di più agli arreddamenti dei vari clienti, giusto? Dare la possibilità di scegliere veramente quella che più si adatta al proprio ambiente. Sono veramente belle, sono veramente molto particolari. Stanno avendo molto successo, immagino? Sì, devo essere sincero, sì. Sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Questa è una fiera, è la seconda volta che lo faccio, lo dico. Fino a un anno e mezzo fa era uno strumento musicale, quindi vedere questo bel legame anche nel mondo del design per me è una nuova frontiera, dai. Ok, allora in bocca al lupo per i tuoi progetti. Grazie. E ti vorremmo vedere presto con altre... Ok, quindi adesso vediamo che la lampada si trasforma in strumento musicale, giusto? Questo è il modello con la base in legno dove viene sfilata lo strumento, si può appoggiare tranquillamente a terra anche con l'illuminazione accesa. Si appoggiano le labbra sul boccaglio e si vibrano dolcemente senza mettere troppa aria. Ok, allora. Semplicemente meraviglioso. È incredibile, lascia bocca aperta il suono di questo strumento. Questo è il motivo per cui dopo 15 anni il Digi Ridu mi lascia ancora queste emozioni forti, è la vibrazione, la vibrazione. Diciamolo, diciamolo a tutti quanti i nostri amici. Stiamo promuovendo questa lampada con un prezzo un po' particolare per farci conoscere un po' di più in questo mondo del design che è a 199 euro con la possibilità di scegliere il modello che più si avvale per la propria casa oppure anche di personalizzarla, quindi insieme decidere il colore, il modello che più consono per ogni arredamento. Il sito www.aboriginaltrip.com, un sito dedicato al Digi Ridu ma che a breve ci sarà un angolo sempre più dedicato sulle Digi Star che è il nome della lampada. Digi Ridu Star perché è illuminata, quindi è il nome che abbiamo dato a questa lampada. Grazie mille, grazie mille, a presto. Buonasera, dalla WebTV Studios ci troviamo sempre a Moa Casa. Mi trovo nello stand di Expo Divani in compagnia di Pino. Buonasera Pino. Buonasera, buonasera a voi tutti. Io sto vedendo che questi divani sono bellissimi, ho letto un po' di tutto e sono molto molto particolari e molto belli. Ci spieghi un po' quello che fate, questo che va un po' più di moda, quale sono le richieste e insomma raccontaci un pochino della vostra attività. Allora noi abbiamo ottimizzato dopo parecchie fiere che abbiamo fatto soprattutto sulla qualità, la qualità e soprattutto sui divani che sia comodi che poi diventano letto comodi, nel senso che abbiamo dei divani che praticamente come se uno ha il divano sul salone e quando lo apre ha un materasso di quelli nuovi alti 18. Proprio perché una volta prima c'era il divano scomodo, letto solo letto e il divano solo divano, allora praticamente se il divano era solo divano c'era il letto scomodo, se era solo letto c'era il divano scomodo. E' tutto insieme, è tutto insieme. Infatti tutti i divani che io ho qua in collezione hanno tutti un bel materasso 818. Poi per lo più questo qui che noi abbiamo dove siamo seduti con questo bellissimo cuore. L'altro è anche molto comodo oltre che molto carino, è bello. Il bellissimo cuore è un prodotto, è una soluzione che praticamente componendolo a delle ruote si gira e possono diventare due letti singoli, un letto matrimoniale, si può separare. In più l'abbiamo donato alla nuova Fission della Pandolfi, se non ricordo bene la felicità. La felicità, sì, 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 esatto. È arrivata la felicità. È arrivata la felicità. Ecco, che è anche molto carino. Senti, dove vi possiamo trovare? Allora, noi siamo sull'Accordo Nulare, all'altezza di Espoluce, tratto interno di Uscola Nappia. Avete anche una pagina Facebook? Espoltivani, espoltivani. Noi possiamo trovarvi lì, tranquillamente, quindi ci sarà anche tanta simpatia, siete accolti anche da tanta simpatia. Ok, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi di essere qui. Grazie a voi. Allora, salve dalla WebDV Studios, ci troviamo sempre a mo'a casa e oggi, in questo momento, mi trovo allo stand della Care, in compagnia di Massimiliano. Buonasera. Ecco, che questo stand è molto particolare. Ci spieghi un pochettino un po' come nasce questa idea. Raccontaci un po' della Care. Care Design è un gruppo tedesco, è un gruppo che conta circa 90 negozi in giro per il mondo, quindi ha negozi da Miami, in Australia, sino in Ghana, negli Stati Uniti d'America. È un gruppo che produce design, ma ha un design unico nel suo genere, perché come potete vedere sono articoli molto particolari. Nel caso specifico, loro hanno circa 7.000 articoli. Sono articoli che vengono veramente da tutto quanto il mondo. Ci sono dei designer che spendono circa 300 giorni l'anno in giro per il mondo per disegnare questi prodotti che poi li vedete qui presentati. Quindi hanno una collezione di più di 7.000 articoli e è un mondo unico, per cui trovate dal piccolo accessorio, come potrebbe essere la tazza per fare colazione la mattina, fino al grande letto di design, ma anche la parete, il divano, il tavolo particolare con le zampe da cavallo. Insomma, i materiali sono molteplici e, ripeto, è la polietricità, perché appunto sono collezioni che vengono non da un solo paese nel mondo, bensì veramente da tutto il mondo. Quindi dal Canada fino all'Australia, all'Oriente, l'Italia, il Nord Europa, l'Africa, insomma. Bella questa unione, quindi creando delle cose molto particolari, forse veramente uniche, molto belle. Senti, dove vi possiamo trovare? Qui a Roma, magari? Sì, esatto. A Roma abbiamo una sede unica, sul raccordo anulare, all'altezza di Gregna-Sant'Andrea. La via di Preciso è via Media-Norsa, così se la mettono sul GPS la trovano sicuramente. È un palazzo, sono 2.500 metri quadrati, sono quattro piani, di puro design, perché trovano veramente tutto. Per spaziare, quindi. Spaziare, veramente. E si può trovare di tutto a questo punto? Sì, si può trovare di tutto, ripeto, dal piccolo accessorio per fare colazione la mattina, fino alla camera da letto, al divano, alla cucina, tutto quanto, insomma. Tutto quello che serve per casa, all'illuminazione, al tappeto. Di tutto. Senti, avete anche una pagina di Facebook? Sì, abbiamo anche, naturalmente, una pagina Facebook, appunto, che è Care Italia, nel caso specifico, quindi Care lo trovano tranquillamente. E abbiamo anche il sito www.caritalia.com. Non basterebbe un'intervista di un mese per spiegare 8.000 articoli, quindi veniteli a vedere, insomma. E forse facciamo prima, anche perché vale proprio una vena. Grazie Massimiliano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, buongiorno, dalla WebTV Studios ci troviamo sempre a Moa Casa e in questo momento allo stand del Dottor House. E mi trovo in compagnia della bellissima Angela. Salve. Allora, ci racconti un po' cosa voi fate? Vedo le cose molto belle e veramente molto particolari, molto moderne. Sì, noi abbiamo un negozio di arredamento, siamo tre architetti e ci occupiamo della riprogettazione completa della casa e quindi con la vendita di tutti i materiali che riguardano l'arredamento dal pavimento all'accessorio, quindi ristrutturazione completa. Ok, sono... dunque, dove vi trovate voi? Il nostro negozio si trova in via Pieve Torina, che è una traversa di... una parallela di via Tiburtina all'altezza del raccordo. E state anche su qualche pagina social, Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Dottor House SRL e il nostro sito internet che è www.dottoraussrl.it Ok, senti, qual è la tendenza di quest'anno? Cos'è che va per la maggiore? Cos'è che vi richiedono? Perché poi fate anche delle cose un po' personalizzate, giusto da quanto ho capito? Esatto, la moda è proprio quella della personalizzazione, quindi stiamo vendendo tutte cose molto particolari, carte da parati personalizzate con immagini private, piuttosto che mobili disegnati su misura, rivestimenti anche decorati a mano, fatti dalle aziende su progetto magari nostro, specifiche per il rivendito, per il cliente, e poi colori molto neutri, colori molto soft, molto torto, ragrigi, queste cose così, sempre linee molto minimali, continuiamo con le linee minimali. Questo è il punto che richiedono, insomma, ancora, ancora la tendenza, anche se c'è un ritorno comunque ai materiali naturali, quindi legni di riuso, bambù, tanto rispetto per la natura, quindi un'attenzione particolare alla biocompatibilità. Questo è molto importante, molto importante. Va benissimo, grazie e buon proseguimento. Grazie a tutti. La nostra giornata a Mova Casa è terminata, abbiamo visitato, si può dire, tutto, tutti quanti i padiglioni, veramente molto interessanti, molto innovativi, quindi non ci resta che augurarvi una bellissima serata, a presto e mi raccomando seguiteci sui nostri social, sulla pagina di Facebook, perché vi aspettiamo sempre più numerosi. Un bacio a presto.